Assessore Giuseppe Speranza, venerdì è stata una giornata critica qui a Torre del Greco per i forti temporali. La città si trova ancora una volta impreparata. I forti temporali non preannunciati perché a noi risultava che c'era un'allerta gialla, ma non che potesse accadere quando poi è accaduto. La Regione Campania in altri momenti puntualmente allerta, ma questa volta non ha allertato. Io non sono l'assessore ai lavori pubblici e né l'assessore all'ambiente. Mi ringrazio per voler sentire il mio pensiero su questa vicenda e credo di saperne qualcosina in più, soprattutto riguardo alla zona di Montedore, Cappella Bianchini e quant'altro. La bomba d'acqua. Che cos'è la bomba d'acqua? Una cosa che arriva da un momento all'altro. Se qualcuno pensa che pulendo le catidoie si può evitare la bomba d'acqua, allora io per primo da stamane mi metterò a pulire le catidoie. Facciamo un altro ragionamento. Dobbiamo pulire tutte le catidoie della città. Benissimo. Dobbiamo assumere un certo numero di personale che sicuramente graverebbe sulle spese e su quelle che può essere poi il costo finale. Ma ciò non toglie, che si potrebbe anche fare. E dunque come si deve fare allora la prevenzione? La prevenzione va fatta a monte, cioè praticamente creando le strutture adeguate affinché ciò non avvenga. Non arrivi a valle una quantità d'acqua come è accaduto nello scorso venerdì. Posso dire con orgoglio che grazie a un mio intervento fatto qualche anno fa durante l'amministrazione Borrero, se ricordo bene, su via Curtoli abbiamo già un dimezzamento delle acque che scendono da Monte d'Oro. Perché, devo dire, grazie a un mio intervento, la SAM fu costretta a creare delle griglie a monte del ponte dell'autostrada. Quindi metà dell'acqua che abbiamo visto scendere da via Beneduce, via Cappuccini, via Piscopia, il rio, eccetera, eccetera, devo dire che la metà di quell'acqua è stata già canalizzata a monte, salvo griglie pulite, e questo lo sottolineo, a monte è deviata nell'alvio cavallo. La responsabilità della reggimentazione delle acque pluviali non è a capo dell'amministrazione locale, ma è a capo della regione Campania. Abbiamo tante aziende in regione Campania che si occupano di protezione civile, si occupano di servizi antigenio, ma contro l'acqua non c'è nessun servizio che tenga. Quindi la pulizia dei tombini e delle caditoi, puntualizziamo su questo aspetto, non è utile, non è necessaria? È anche utile, ma se arriva all'imprevisto, ecco, un'acquazione come è arrivato bene il discorso, con una certa potenza e con una certa quantità, la caditoia serve a ben poco. Come fa a maltempo? O c'è pioggia, la caditoia sistematicamente si ottura, anche se l'abbiamo storata un'ora prima, perché ti arriva da monte dei calcinacci, dei petricci, dei cespugli, carte, un po' di tutto, soprattutto se c'è ancora la spazzatura in strada, e abbiamo otturato le caditoi. Quindi oltre il danno anche la beffa, vuol dire che quella spazzatura attraverso le caditoi arriva a mare. C'è tutto un ragionamento da fare a monte, perché effettivamente il discorso è serio, la questione è molto seria. Andiamo verso l'inverno, dunque ci saranno nuovi e forti temporali, la gente venerdì ha avuto paura. Ci sono stati momenti di panico, anche io ero presente in strada, insieme ai vigili urbani, insieme ai tecnici del comune, nell'intento di cercare di dare una mano, per quanto ci è possibile. Posso dire che sulla tratta Monte d'Oro-Curtoli-Viascappe c'è un'intensità di traffico paurosa, soprattutto in momenti particolari, atmosferici, la cosa si aggrava ancora di più. Al di là della viabilità che va sempre in tilt, ma resta proprio una questione di sicurezza? Possiamo sul territorio prendere tutte le misure e tutte le precauzioni dovute per limitare i danni, ma sicuramente non per evitare ciò che accade.